Noi abbiamo fatto un calcolo di eventi che nella nostra provincia sono venuti a mancare, che verranno a mancare circa 400 eventi tra i più importanti a minori che magari si venivano a sapere di meno sui social e sui media. Abbiamo fatto questo appello alla Regione Marche e devo dire grazie perché fino adesso la Regione Marche ci è stata sempre vicina, è stata sempre attenta le esigenze delle proloco della nostra provincia e del nostro territorio. Mi sono sentito sabato con tutte le proloco della provincia di Peso Urbino, con le 67 proloco e ci siamo sentiti anche con il rappresentante del Comitato Un Piascoli Fermo, col Presidente, e ha partecipato alla riunione il Vice Presidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minari, il quale ringraziamo per la sua disponibilità che si è fatto carico delle istanze delle proloco della provincia di Peso Urbino. La nostra richiesta maggiore è quella, prima di tutto, di essere inseriti nei tavoli tecnici dove si decide, dove si parla e dove ci sono le linee guida, dove si discute sulle linee guida dell'elenco degli eventi, come organizzarli e come farli. Questo per noi è fondamentale. L'altro punto fondamentale è riconoscere le proloco un contributo per poter andare avanti e per poter continuare a promuovere ed accogliere i turisti nel nostro territorio, nella nostra bellissima provincia, ma anche nella regione Marche. Noi contiamo dalla fine di febbraio fino a tutto compreso il mese di giugno, quindi quattro mesi di stop generale dovuto al Covid. Chiaramente non è colpa della regione ma è un problema legato al sanitario e quindi insieme vorremmo capire come fare e quali saranno le linee guida per organizzare i nostri eventi.